Cari lettori, cari lettrici di Risico Wedding, mi devo scusare con voi se non ho più scritto questo blog, ma ci sono stati dei cambiamenti. In due anni ho scritto più di 500 pagine di diario, pagine divertenti, pagine tristi, pagine d'amore. Ho messo online più di 800 foto, ricordi, polaroid che immortalavano un momento unico e irripetibile. Ho vissuto in una casa decapata, bianca e lilla, piena di pois, e ho bevuto circa 200 tè in una tazza lilla, piena di pois. Voi lettori avete dato il nome ad angolo, il nano da tappeto. Carlotta poi ha messo a guardia della cucina gli ignomi Pippo e Baudo. E tutto questo, insieme a voi, è diventato Risico Wedding. Ma come vi dicevo, spesso le cose cambiano. La vita non è un percorso ovvio e pianificabile. Non è detto che uno più uno faccia sempre due. E sapete quanto uno più uno può fare tre? Beh, quando due persone che si amano da sempre, realizzano un sogno. Temo che dovrò cambiare titolo nei diari. Perfilare Grazie a tutti